Si parte sabato 14 settembre da Campo San Piero, si chiude il 13 ottobre a Villanova, ma tutti i dieci comuni della federazione saranno protagonisti di Visit Campo San Pierese, l'iniziativa di scoperta del territorio che torna in autunno per il secondo anno consecutivo. Dalle visite guidate alle ville venete e alle chiese, alle esperienze in bici o a piedi nella natura lungo il fiume Tergola, gli appuntamenti, tutti gratuiti con prenotazione obbligatoria, saranno a disposizione di un pubblico vasto che già lo scorso anno ha ampiamente superato i confini territoriali. L'obiettivo è proprio quello di creare opportunità, opportunità di apprezzare il Campo San Pierese visitandolo nei suoi angoli più nascosti, più belli, più caratteristici, vorrei dire anche più intimi, approfittandone dell'inizio della stagione autunnale, quindi dei colori, dei sapori, dei profumi di questo periodo. I dieci appuntamenti, ce n'è davvero per tutti i gusti, si possono consultare sul sito www.camposampierese.it da dove sarà possibile anche prenotarsi oltre 50.000 ai turisti nel territorio dei dieci comuni nel 2023, un lavoro che per la federazione, partita nel 2015 con il marchio Valleagredo, continua. Abbiamo fatto questo passo trasformando il progetto Valleagredo nel nuovo marchio d'area, il Campo San Pierese, che abbiamo volutamente legato al contesto territoriale dell'Alta Padovana, lo vedete nel marchio e ovviamente col claim nel cuore del Veneto, perché siamo il cuore del Veneto e vogliamo appunto che anche al di fuori dei nostri confini provinciali o regionali si conosca quest'area e la si conosca per le bellezze disseminate che ha. Il prossimo passo ovviamente sarà quello di estendere i confini, quindi di ragionare oltre al Campo San Pierese, ragionare come territorio unico dell'Alta Padovana. A sostenere le iniziative la Camera di Commercio, che punta molto sul futuro e sulla formazione degli operatori. Noi come associazioni dobbiamo fare emergere questa opportunità e gli operatori si devono giustamente preparare. Preparare perché? Perché arriverà anche un turismo che non è divicinato, ma un turismo internazionale.